Ciao a tutti ragazzi! Oggi siamo in questo primissimo tutorial del canale e di che cosa si tratterà questo tutorial. Schiaricheremo Minecraft 1.15 gratuitamente per Android e poi non so se fare anche il tutorial per scaricare Minecraft 1.16 però già io la avevo provata e avevo un sacco di bug quindi penso che non lo farò e lo farò quando avranno aggiustato i bug. Quindi dovete andare su Google e cercare Minecraft 1.14.30.2 APK voi ci cliccate che ragazzi ho dovuto fare un taglio enorme perché mi sono accorto che questo sito c'è che io prima stavo stando questo però poi mi sono accorto che hanno rimosso appunto il download di Minecraft ho scritto oh ci dispiace ma il download è stato rimosso quindi no poi ho provato questo però era fake e poi ho trovato questo che già io l'ho fatto e questo è vero funziona e voi fate Minecraft APK questo qua ok ok e voi fate scarica e poi farà questo tipo di fare ok e voi fate ora non posso farvi scorrere le notifiche perché c'è qualcosa di privato quindi non ve lo posso far vedere ma qua vedete insomma che c'è il coso che sta scaricando ok quando si scarica perché questo sito io lo conosco fin troppo bene e poi questo download verrà rimosso quindi devo aspettare che si scarica e quando si scarica ragazzi siccome io ho un internet pessimo siccome mi sto annoiando davvero tanto perché è da 5 minuti che aspetto che si scarica e ancora è a 40 megabyte su 90 cioè ci metterà secoli quindi aspetto cioè quindi io guardo i video che devo fare ragazzi ma non ci credo che ho un internet così schifoso dopo dopo 10 minuti ancora è a 70 megabyte ma fa davvero schifo oh mio dio ragazzi finalmente si è scaricato e quindi voi lo troverete nelle notifiche però io non ve lo posso far vedere perché ci sono cose private quindi voi ci cliccate però io farò così per non far vedere queste cose e sarà questo questo qua con un punto ok che poi vi lascerò anche in descrizione quindi cliccate e aspettate e fate installa ma non voglio scaricarlo perché mi mi risetta tutto minecraft quindi meglio di no ma se vi dirà di attivare le sorgenti sconosciute ma se vi dirà di attivare le sorgenti sconosciute voi fate impostazioni e impostazioni sorgenti sconosciute e attivate e poi e poi e e e riandate qui e ricliccate qui e e aspettate e fate installa ok e una volta scaricato avviate minecraft ma non c'è bisogno che ve lo faccio vedere perché già ho fatto qualche 5 video su minecraft quindi già cioè si vede che che funziona e e poi se non vi funziona qualcosa e e poi ditemi e cioè poi voi me lo scrivete nei commenti e io potrei dirvi qual è il il problema perché ci vuole un telefono con almeno ragazzi sto ridicendo le caratteristiche perché non si era capito niente quindi bisogna avere almeno android 4.2 almeno poi bisogna avere almeno tipo se no tipo tipo 800 megabyte di memoria libera e e di ram un gigabyte e perché se non avrete queste queste caratteristiche minecraft o vi andrà a scattissimo oppure proprio manco funzionerà quindi ciao quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto e e che soprattutto vi abbia funzionato quindi per questo video arriviamo almeno a 3 like condividete con tutti i vostri amici e al prossimo video a